Ho avuto l'opportunità di conoscere Padre Rufino innanzitutto come direttore e mio formatore, professore anche, di liturgia. Negli anni Ottanta appunto lui venne a Campobasso quando io frequentavo la scuola di teologia, fu nostro direttore per tre anni, ci accompagnò negli studi, fu per noi un riferimento a livello formativo. Quella è stata un'esperienza molto bella, eravamo giovani, e lui che sembrava, come dire, esteriormente una persona burbera, invece si è rivelato poi come una persona di grande cuore, ed è innamorato della sua vocazione Francesca Luca Puccina, un formatore che ci ha inseriti sempre di più nel contesto della vita fraterna nella quale vivevamo, gli studi di teologia che facevamo, e quindi tutto ciò che ci poteva servire per diventare anche noi degli autentici frati cappuccini, soprattutto a servizio della missione di quello che noi dobbiamo compiere nel mondo. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Padre Rufino ancora più nell'esperienza mia missionaria. Padre Rufino era innamorato della nostra missione del Chad Centrafrica, ed è stato forse il provinciale che ha dato inizio a delle visite continue alla missione. Infatti, proprio quando anche io sono stato poi in missione, spesso lui è venuto a trovarci, ogni anno sostanzialmente veniva. Ha avuto anche l'occasione di vivere con noi l'esperienza della visita di Giovanni Paolo II alla nostra missione. Sentiva fortemente questo attaccamento alla missione, ai nostri missionari, e il suo rendersi presente certamente ha fatto sì che la provincia sentisse davvero la missione del Chad Centrafrica come una realtà stessa della provincia, dove lui tra l'altro ha fatto tutto il possibile anche per sostenerci umanamente, religiosamente, ma anche economicamente. La provincia ha investito molto su questa terra africana. Infine, ho conosciuto Padre Rufino ancora più nella condivisione anche dell'esperienza fraterna a Campobasso, quando io sono ritornato come formatore, come guardiano, e lui è tornato come parroco. Lì abbiamo avuto la possibilità di condividere, ecco, come tutti e due responsabili di due realtà. Io ho l'aspetto formativo dei giovani post-novizi e lui la parrocchia. E lui dà perfetta armonia e sinergia, dove anche gli stessi studenti che io, diciamo, accompagnavo, hanno avuto la possibilità di conoscere questo frate, tutto d'un pezzo possiamo dire, burbero a volte nel suo modo di essere, ma da un cuore molto grande. Devo dire che per la mia vita, per la mia vita umana, per la mia esperienza religiosa che ho condiviso con lui, ecco, porto un ricordo davvero grande nel cuore, affettivo, ma anche di grande stima per lui.